Oh, leep Hi, odiers! What's up, my name is 61 E siamo nuovamente qui per un nuovo Ed entusiasmantissimo video che ho poi Questa volta su Life is Strange E siamo arrivati nel punto in cui dobbiamo dare La prova finale dal nostro potere A quello alla tavola calda Quindi abbiamo visto il tizio che ha fatto cadere la tazza E... ok Ok Quindi... Ok, bene, li avvolgiamo Li avvolgiamo, li avvolgiamo, li avvolgiamo Li avvolgiamo Ui, palla Ok Ok Il camionista fa cadere... Il camionista fa cadere e Joyce lo ha un nuovo Ok Quindi, cosa succede dopo? Il camionista fa un'emergenza sui radio E il suo partner in auto Non lo andrà Ok, vediamo come si succede Ok Ok Justin e Trevor fight E Joyce lo soffi Sì, hai ancora bisogno di dirmi un altro evento, Max. Oh! Merda! Allora, ok, fermi. Allora. Lei passa, saluta. Lui... fa cadere la tazza. Sì? Non riempio per te. Ssh! Ora devo prendere questa chiamata e lasciare il mio pranzo. E' il mio partito. E' così bella! Prendi il tuo club fuori! L'ho iniziato! E' finito! Tu stai davvero stupendo questo! Ok... Manca l'ultima. Questo è sicuramente meglio di quell'altra chiamata. Penso che tu Fox è andato per Davy Jones. Quindi, cosa stai aspettando? Ok. 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 Andiamo a bere! Sono pramba! Ok. Allora. Il camionista fa cadere la tazza. Perfetto. Il suo collega sarebbe. Ok. Ok. Dopodiché Justin e Trevor li ferma. Justin e Trevor sono riusciti e Joyce lo rompa. Questo è diventato bene! Non mi aspettare per vedere cosa succede! Ok. Ok. Eh! 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 Che cazzo! Il camionista fa addiole! Il camionista fa addiole! È abbastanza bizarra Max! Ma vediamo se tutto succede con questo! Allora! 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 Oh! Oh yeah! Oh baby! Oh! Non funziona esattamente così! Non possiamo divertirci! Sono l'unica che posso farlo! Cioè! L'unica che può rivolgere il tempo sono io! Tanto la spalla? Hey! Sei ok? Tanto la spalla! Vediamo cosa succede quando ci siamo ancora? E poi... Andiamo a una delle mie lecce secche e testiamo la tua potenza! Ne ho bisogno di un liceo per guidarti! Ok! Ok! Questa era su Robin di Batman! Oh! E non hai finito il tuo uffo! Oh! E mi ricordo che tipo di uffo che ha in mente ora! Ok! Ok! Vabbè! Andiamo! Supergirl! Andiamo al mio place segreto! Yeah! Ehi! 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 Sul serio? Sul serio? Sul serio? Rispondi! Dammit! Ok! Ehi! 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 Andiamo! Ehi! 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 se la va bene così, te da solo, Clou dovrà capire i suoi spazi, io ho i miei, lei è i suoi, io ho i miei poteri, lei è i suoi, cazzarrova comindè, vediamo un po' che succede nel nascondiglio di Clou è questa una raccoglione? continui, 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 questo è un po' che succede, questo dipende da te e da quanto bene ti faccio in questa fase della testa benvenuti all'America Rust, mio casa da fuori dall'errore mi sembra riuscita a te Max, sai quanto è fantastico? Ho avuto il mio migliore amico e lei è anche di superiore? Sì! Non manca il mio mantello e il vestito anche se i supereroi non dovrebbero mai indossare mantelli, è sbagliato David potrebbe essere un doucho, ma tu hai fatto scoprire la sua scuola è tutti armati in Arcadia Bay adesso? solo i quelli che non dovrebbero essere, come Step Dildo fino adesso non sono ancora nella revolutione, Che tu sei la revolutione, Max quindi dovremmo scoprire come usare e abbiare il tuo potere con la testa oh eh drink? Yuck tu sei molto bella, non hai cambiato un po' ok, facciamo questo, puoi trovare cinque bottiglie mentre preparo la scuola? beer and guns, buon combo ahahah 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 ok, va bene andiamo a cercare queste cinque bottiglie del nascondiglio super secretissimo di Claw no, io non voglio andare qui ahahah ah dove sono? cinque bottiglie cinque cinque fottutissimi no, io non voglio andare qui stiamo cercando cinque bottiglie ah allora bottiglie cinque cinque cazzo di bottiglie ok ah che è? che è? che è? che è? probabilmente è morto e sepolto da qualche parte giovanotta oh riposo in pace riposo in pace giovane macchina fotografica quindi allora devo stare attento perchè potrei perdermi qualcosa maglietta maglietta questa è la cosa più strana qui oh mi chiedo di quante generazioni di fattura si tratta di quella macchina non ho idea, ma io non sto trovando neanche... oh ok 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 ne mancano quattro wow oh ehi 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 è la perfetta foto foto anche perchè è semi trasparente quindi yep ehi aspetta bambi bambi torna qui vabbè ok bene quindi abbiamo trovato anche bambi a quello che sembra cazzo eeeh no niente cattorcio adesso il cattorcio non ci serve ci servono quattro fottutissime bottiglie non c'è... sul serio non c'è una... cazzo di bottiglia neanche a pagarla qui jesus christ oh max alla ricerca delle bottiglie perdute this was an old school punk shirt yep era ora potrebbe essere una bandiera pirata per quanto mi riguarda oh shit te 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 max gira per le discariche te 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 Va bene Non andrei da questa parte allora Andiamo da quest'altra Sono delle bottiglie da questa parte invece? Cazzo Ok, basta che mi dai quattro bottiglie E ora vado in giro, ciccia Dammi queste fottute quattro bottiglie Wait a second Cazzo Ok, wow Sembro un cazzo di Simpson Ok, wait a second Sono andato a rispondere al telefono E mentre rispondevo al telefono Mi sono reso conto che Ok Va bene Mi sono reso conto che la lampadina della camera Stava per esplodere Tipo ha iniziato a un certo punto a fare tipo così E ho sentito un leggero fisco della lampadina Quindi ho detto Ok, forse è il momento di cambiare la lampadina E non ho messo un'altra ma è a luce calda e non a luce fredda Quindi ora sono leggermente giallo Detto questo andiamo a trovare queste cazzo di bottiglie di merda Cazzarola Non so neanche da quant'è che le sto cercando Non so da quanto Che cavolo Oh, una vecchia bambola Oh Che bello Wow Ma ci sono quattro bottiglie Sul serio Ma sono io che sono scema Non le vedo Questo si sembra come un museo di grafitti Oh Oh Ok Fa un po' male in effetti C'è anche senso Ok Oh Bottiglia mia La la land La la land This way What I want to die Jeez Who wrote this Non ne ho idea So Rachel did go to a vortex club party This flyer is dated right before she disappeared Oh Oh Ok I was here Now we're officially a trio Ha 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 I'm Rachel Ok David, wait Che ce vuole? Uh T-t-t Sì Ho una scimmia assurda Neumberg è a 97 km Quindi dobbiamo uscire intorno alle 5 Guido io Oh yeah Col tuo nuovo boide Dobbiamo prendere la roba per il drive-in Forse possiamo cenare prima Come vuoi Comunque Scimmia assurda Troppo tardi Ok Va bene C'è qualcos'altro qui? Tipo fotografie? Oh 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 Potrebbe essere io invece di Rachel Oh Rachel Probabilmente è finita male in una di quelle feste del Vortex Club Ehm Ho il proprio sentimento che c'entri Grazie per la tip Mangia merda e vivi Ok Grazie Ok ok Non vuoi andare da quella parte Yee 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 Ok Cazzarola Mi servono solo delle bottiglie Posso avere delle Non volevo andare da quella parte Volevo salire per questo Non si può salire di qui Ok bene Cazzarola Diciamo Probabilmente La Rachel È finita male in una di quelle feste Ehm Quindi Yee Speriamo un po' Speriamo bene Cazzarola Oh 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 Bottiglia Stupid bottle Dammit Ok C'è Qualche modo Oh muove Yee Sono intelligente Yee Ok vai Prendila Yee Ok Mia Oh Oh D'acqua di trovare una bottiglia In una Potremmo rilassare il potere. Od Dio, o dei Dioci? Quindi, bow. Possiamo fare il mondo bow. Sei pronti per questo? Sì. Una volta che ho capito come funziona il mio potere. Un Dio dovrebbe sapere queste cose. Amen! E mentre stai un imparato, sono qui per mantenere te sul passato della malattia. Ok. Prendi, riprendi e riprendi. Sono solo... alterando il tempo e il spazio. Oh sì, e la storia. No, Biggie. Hai già alterato la storia per salvare la mia vita, smartass. Vediamo che altro puoi fare. È così quieto e primordiale qui. Io sempre sento che la foresta si risponde a me. Come se Arcadia Bay sta cercando di dire qualcosa. Devi trovare le bottiglie. Ecco il testo a Dio. Cazzarola. Ok. Forse è il momento d'alzare cercare queste bottiglie. Cazzarola, Max. So che ti piace fare queste cose da hippie, ma seriamente. Smettila di farlo e cerca queste bottiglie. Dimmi un consiglio, niente. Non sai dove potrebbero essere delle bottiglie, cazzo. Oh? Questo? Questo? Che diavolo è questa roba? Oh! Ok! Eh, metta! Un'altra bottiglia per andare. Sì, Dio. No! Non lo farò. Oh, Kate. Hey! Max, scusami, ti stupendo chiedendo di un consiglio. Credo che non mi rimanga altro che lasciare le... Che lasciare le persone divertirsi con il mio video. Kate, non intendevo questo. Voglio solo che tu stia attenta. Troppo tardi, immagino. Ma grazie per aver risposto stamattina. Ho bisogno di un'amica e sei arrivata tu. Sono con te. Smack. A dopo. A dopo, cara. Oh... Shit. Kate, devi stare attenta a quello che fai. Quindi... Allora, ho quattro bottiglie e lei ha... Tipo... Oh, ciao, scogliatolo! E lei ha una quinta bottiglia. Quindi potrei andare da cosa? E chiedergli se ha una bottiglia da darvi? Tipo quella che si sta scolando? A quattro sembrerò... Cazzo! Qui... Oh, what the... Che cazzo... Fao? Eh, questo... Oh, ok. Quindi, ecco... Oh, vaffanculo! Ecco l'ultima cazzo di bottiglia! Sono venti minuti che sto... What the fuck? Ok! Statemi fermi! Portarci i vostri sopporto! Ok... Claw! Ho trovato le tue fottutissime bottiglie! Che... Spero che ne valga la pena! Claw! Spero che ne valga sinceramente la pena! Cazzo! 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 E Kansas! Cazzo! Cazzo! qui indietro oh adesso si che ho visto ero qui spara spara stiamo a target prendiamo il trigger più in alto in alto insieme in alto guardate ora questo è divertente mettiamo il volume e troviamo un altro target voglio essere creativo guarda qui guarda 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 gli occhi guarda vecchio no no lame oh ok ti stai mai bere niente donna cazzarola posso sparare su a quello che abbiamo davanti guarda 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 adesso guarda 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 gli occhi Ok Oh Uh Ah ok perché devo uccidere le bottiglie Ok Va bene Lì Uh Uh Ok Direi niente Oh merda Oh No Direi no Direi no Ok Ok I need a target How about aiming for the left tire? Adios spinning wheel of death Uber cool I cannot believe this is for reals My best friend is a superhero Now it's your turn to bust a cap I don't know Max your nose Damn Eh direi che non puoi usare così Oh Oh wow What the fuck Wow Wow Oh yay Yay You freaked me out there Do you feel any better now? No Thanks for helping me Just give me a minute Too much action for Arcadia Maybe not enough This is kind of fun Scary and stupid But fun Let me know when you feel okay God This power really messes with my head I'm glad I feel normal again Woo I better go chat up Chloe Ok Ok ma Ok ma Ok I will stop Termo questo video in play Spero questo video in play Si è piaciuto Wow Ho perso un fottuto di tempo Del cambiare la lampadina Le bottiglie eccetera Sembro un Simpson Lo so Ma a chi se ne fotta A sto punto Noi ci vediamo al prossimo video Sapere che ho il vostro Rex noturo Ciao a tutti bro Oh yeah